Sicuramente siamo stati interessati a un evento che va ben oltre il tempo di ritorno dei 30 anni. Tre alluvioni in due anni non è una cosa normale e non è una cosa che ci vogliono raccontare di un evento meteorologico straordinario, perché non lo è. E ora che la smettano, devono farla pagare a questa gente. Cosa è servito? Spendere centinaia di miliardi di euro per creare autorità di vaccino per dire che bisogna lasciare i fiumi come sono. Il fiume va pulito, pulito, manutenzionato. Dobbiamo proprio capire se c'è la possibilità, se ci fanno andare avanti o se bisogna chiudere l'attività. Qui si arriva al fallimento. Ormai abbiamo ipotecato tutto. La mancanza del ponte produce effetti dal punto di vista economico enormi. Poteva o essere scavalcato il ponte o essere distrutto il ponte. Quindi era prevedibile. L'avevo scritto il 23 ottobre.